buongiorno principessa vi volevo mostrare quest'outfit perché secondo me è molto carino può essere un spunto magari per questi giorni affosissimi perché fa molto caldo questo vestitino l'ho preso su sheen pagato pochissimo molto carino ce l'ho già dato l'anno scorso ora mi sta un po' grande a dire la verità ma è talmente fresco che magari ci andrebbe una bella cinta però non c'è voglia poi ho messo questa è una borsa di mango mi pare no jones sorry carinissimo pure lei borsa di paga is the way cappellino perché mai cappellino così perché mai senza e niente questo è quanto che la sua e si va zero trucco ragazze e niente devo uscire devo sono già le cinque e mezza quindi diciamo che ho aspettato per per uscire perché veramente ragazze oggi ci saranno 40 gradi poi faccio vedere anche le giabattine e sono molto vi faccio vedere adesso anche le giabattine che sono molto 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 carine e queste sono di avaianos o avaianos o un altro blend mi pare avaianos e ora le faccio vedere e poi scendo perché fa anzi facciamo una cosa scendo bene faccio vedere in giardino ciabattine top carinissime di un colore diverso rispetto al vestito in realtà ma chi se ne frega ragazze è stata in estate si può tutto all'ombra del banano di francesco aspettando che torni per uscire 13 minuti vorrebbe tornare le ragazze ti vogliono bene hai visto mamma ragazze sempre storte vi metto aspettate un attimo che voi non siete storte io non vi posso far diventare storte aspettate ragazzi oddio mio ragazze liquefazione modalità on e niente ragazzi allora io sono uscita come avete visto sono già tornata sono passate due ore dall'ultima ripresa e io mi sono fatta praticamente una sauna però dovevo assolutamente da stamattina che cerco di risolvere una cosa abbastanza importante grazie a dio ora ho avuto una telefonata che mi ha un po' tranquillissima non è utilizzato meno male dovrebbe essere risolvibile senza ulteriori affanni e affaticamenti da parte mia insomma cassini di quelli belli consistenti però risolvibili perché ovviamente sono importante questo ecco che siano cose risolvibili e nel frattempo mi ha chiamato mia sorella perché erano a casa di mio papà mia sorella e mio papà stanno facendo delle grandissime pulizie a casa e io ovviamente non posso partecipare materialmente perché a differenza di quello che si pensa sto abbastanza male quindi non posso prendere pesi non posso fare questo non posso fare quella l'unica cosa che posso fare ogni tanto è andare a dare un sostegno per quanto riguarda la situazione bambini ecco stare con i bambini quindi in tutto ciò mia sorella però mi ha dato queste ragazze che sono delle tre agende che come potete vedere sono agende belle piene e piene pienissimo che io ragazze guardate cioè avevo stickers e parliamo dell'anno non lo so comunque o cartoline biglietti quando ti accorgi che la sera è già lì e qualcosa comincia e finisce così alia jacta est scendo a morire nel 1993 ragazze 1993 un invito a un diciottesimo fare articolo vedere documenti sempre light motive mamma mia il mio tè preferito twinnings twinnings era il mio tè preferito dell'epoca basta è colpa tua che mi guardi 13 anni 13 anni ah mio mio fratello aveva 13 anni ho comprato le dr martin Natalia una Brooklyn questa sapete cos'è ragazze non vi potete rendere conto oddio una lettera di mamma no vabbè la tua mamma è il mio vocato di adesso che è una mia carissima amica che mi scelta una dedica oddio oddio comunque ragazzi questa è una laureanda perché era il primo anno di università e avevo comprato la laureanda di university diary e poi qui ho delle cartoline a simone di caldo cartoline oddio mio ragazzi questo è sempre un invito per un diciottesimo cartoline da messina i miei amici che ho facciato nel militare no vabbè vuoi essere il mio cuore d'offizio carine questa è qua questa non so cos'è per carmen e chi è? inviti chissà di chi non c'è scritto il nome no vabbè no vabbè gli inviti che si facevano una volta ragazze un'altra cartolina e poi qui ho un'altra dove c'è la foto della mia scuola cioè ragazza mi giuro la foto della mia scuola media sto morendo questa la devo mostrare assolutamente a Francesco se c'è una persona vediamo no c'è da morire ragazzi mi giuro questa sono io ma stendo un vero pietosa su tutto ciò compito di latino portare il libro lettere programma consegna adesso mamma mia ragazza no vabbè questo mi aveva mandato un ragazzo mi ricordo perfettamente e io l'ho tenuto qua e non gli ho mai risposto amore tipo mi vuoi bene ti vuoi mettere con me che cosa questo cosa fare un quaderno letterario oddio mio che cosa greco nuro fa il primo di testa articoli giornale la madonnina poi questo me l'aveva fatto mio nipote e me l'aveva fatto mio fratello no no mio cugino questo me l'aveva fatto mio cugino no vabbè ragazze il libretto delle giustificazioni cioè telefilmavo io le giustificazioni come è sta storia questo è il diario scolastico del liceo classico il primo anno del liceo classico ragazze cose veramente preziose preziose sono cose veramente preziose outfit of the day ma chi me l'ha fatta fa diamo i titoli ai vari outfit comunque questo è il mio outfit ragazzi questo vestitino che è molto carino però l'ho messo molto in maniera molto easy così senza niente sotto proprio e devo metterci il giubbotto sopra il giubbottino sopra perché devo scendere in uno studio in uno studio di commercialisti praticamente quindi ma non sapevo che mettermi perché fa molto caldo è molto carino questo qui vi dico la verità non mi ricordo se l'ho comprato in un negozietto mi pare in un brand della zona non mi ricordo sinceramente le giubbottine le sto utilizzando tantissimo ve l'ho fatti vedere non so se vi ho già pubblicato il video perché sto aspettando l'autorizzazione da sto aspettando l'autorizzazione proprio dal brand perché è un video che comunque richiede l'autorizzazione e quindi comunque le sto utilizzando ve l'ho fatta già vedere sono di Timu e borsetta borsetta George & Jones che avevo anche ieri sera e adoro in questo periodo occhiali da sole e capelli legati perché fa veramente un gran caldo adesso prendo il telefono e scappo e sono ragazze le 11 e 46 tra l'altro sono senza orologio perché è sottocarica tanto per cambiare mi sa che metto il caso oppure niente non lo so comunque 11 e 47 e si va ho già preparato un'insalata di pomodori e in realtà nelle previsioni e le richieste di Francesco c'era la pasta e i quattro formaggi perché abbiamo un po' di gorgonzola abbiamo un po' di provola rimasta da quella serie che ho fatto la pizza abbiamo un po' di filedelfia e un po' di formaggio svizzero quindi ho detto abbia sono quattro facciamola la pasta con i quattro formaggi che tra l'altro è una vita che non la faccio veramente quando stavo con mamma e quindi niente la previsione era questa ma la farò stasera perché alla fine è una pasta che va mangiata se non proprio calda tiepida quindi siccome dobbiamo uscire siccome non so quanto staremo in questo posto non è il caso nel frattempo mi sono arrivata un po' di cosette che avevo ritirato con gli sconti ragazzi ho fatto un po' di acquistini con gli sconti ma vi farò un video a parte non credo che inserirò gli acquisti all'interno dei vlog perché sono tante cosine delle belle occasioni cose carine e quindi ve le voglio mostrare poi nel particolare ok quindi stay tuned adesso vado Alexa leggi la notifica eccoci qui on the road di nuovo ragazze sono lei mannaggia la miseria ma perché perché mi dimentico di indossare il mio apple watch ormai sono talmente abituata ad averlo sempre al posto che quando capita perché praticamente lo ricarico ogni due giorni in realtà perché dura ancora molto la ricarica ma quando non ce l'ho insomma mi sento mi sento persa e me lo sono dimenticata allora comunque sono le 6 e 20 circa di pomeriggio e ovviamente stiamo andando a comprare un po' di frutta perché siamo rimasti assolutamente privi di frutta non ce n'è nemmeno un po' e io senza frutta non riesco a stare in questo periodo anche se vi dirò che è un periodo che ho un po' più di fame rispetto a prima comunque dobbiamo ah hanno aperto c'era il passaggio a livello chioso Francesca ha fatto retromarcia e l'hanno aperto quindi stiamo andando a risolvere abbiamo appena risolto un'altra cosa ragazzi è un periodo di risoluzione problemi veramente mamma mia comunque l'imprendo è risolverli fin quando si risolvano va tutto bene quindi abbiamo risolto queste cose e ora andiamo a prendere un po' di frutta e poi stasera gli faccio la pizza e i quattro formaggi tra l'altro la pizza la frutta no help che cosa faccio? la pasta la pasta e i quattro formaggi la pasta e i quattro formaggi tra l'altro io avevo speranza che si fosse dimenticato gli ho detto che vuoi stasera facendo la vaga e lui la pasta non metto che farà pasta e niente pasta e i quattro formaggi e quindi stasera pasta e i quattro formaggi e mi sa che me la mangio anch'io perché non ce lo voglio in questo periodo è un periodo che ho un po' allentato ma devo stare attenta veramente ho un po' allentato la dieta aiuto e quindi e quindi questo e niente adesso facciamo un bel rifornimento di fruttas quindi vi saluto perché voglio scendere mi sa se non fa troppo caldo fuori perché altrimenti ragazze sembro tipo un semaforo cioè sono tipo un po' più sbiancata appena prendo sole vum 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 bastardo di un lupus ma io ti faccio smettere di ululare chi si è pentita di quello che ho detto io e infatti eccomi qua ragazzi all'interno di questo vlog seduta e accomodata e vi faccio vedere le cose che ho comprato ho fatto un po' di acquisti con i saldi in realtà era da tempo che non ero ispirata non ero ispirata assolutamente ad acquistare nulla però vuoi perché sono stata molto male in questo ultimo mese e quindi avevo bisogno di tirarmi un po' su vuoi perché c'erano i saldi ho preso alcune cose vi faccio vedere quello che mi è arrivato finora qualcos'altro mi deve ancora arrivare però intanto vi mostro questo così comincio ad utilizzarlo perché altrimenti si crea la pila di cose in attesa di mostrarvele ma io ho bisogno di utilizzarle allora la prima cosa che ho presa è questa che è una collanina molto 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 carina questa l'ho presa su un negozio online ma la trovate un po' ovunque basta che scrivete catenina con orsetto teddy e mi è piaciuta tanto volevo una coccola quel giorno ho visto questa e io non resisto mai agli orsetti anche se in realtà ora sono in fissa coi pesci coi pesciolini ragazze sono in fissa coi pesciolini vorrei comprare una collana che ho visto però anche se sembra il contrario io mi trattengo molto perché solo una che acquisterebbe 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 invece mi trattengo tantissimo ora l'unica cosa l'unico sfizzietto che mi voglio togliere per quanto riguarda i pesci è comprare quei bicchieri non so se li sapete quei bicchieri tipo tutti trasparenti e dentro si vede il pesciolino tipo si vede il pesciolino quando mettete l'acqua si vede il pesciolino dentro è troppo carino però non sono riuscito ancora a trovarlo ne ho visto qualcuno su amazon ma costano un po' tanto però adesso vediamo e ha lo stesso negozio online sempre ho preso questo qui che è un vestito secondo me molto carino ragazze l'unica cosa non so per quanto riguarda il materiale non lo so spero che sia fresco perché io l'ho preso appunto per stare fresca ed è un vestito di quelli che uso io ne uso di due tipi sia così che di quelli in viscosa molto larghi con le bretelline semplici lunghi insomma ne avete visto un po' anche in questi in questo vlog però questo ecco l'ho voluto perché è invece lungo vedete molto lungo con questa stampa mimetica ha lo spacchetto sotto un bello spacco anzi e mi sto accorgendo che è un po' trasparente vabbè non importa siamo in estate e poi ci ha disegnato Snoopy quindi molto carino mi è piaciuto un po' il tutto il fatto che sia con questa stampa mimetica il fatto che ci sia Snoopy il fatto che sia molto easy da utilizzare con sia con l'infradito che con le giabattine che con un paio di sneakers quindi anche per per andare insomma nei posti dove vado io va bene secondo me help sono con l'aria condizionata tra l'altro mi fa caldo lo stesso un altro testo che ho fatto su indicazione vostra ragazzi perché veramente questa è una cosa che è una delle cose che mi avete consigliato di più mi avete sempre detto prendi questa prendi questa ogni volta che vi facevo una domanda una fatidica domanda voi mi rispondevate prendi queste prendi queste prendi queste Carmen le devi prendere sono comodissime io pensavo di no sono validissime sono comodissime sono le 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 sneakers più vissime che c'è ragazze mi avete consigliato tanto queste io cercavo un paio di sneakers di scarpe da tennis chiamatele come volete per da battaglia per andare in montagna per andare nei miei lunghi viaggi per andare se vogliamo andare in gita uno un paio di scarpe che fosse valido in tutte queste cose ma soprattutto che fosse comodo ragazze è la maggior parte di voi veramente all'unanimità quasi quasi mi avete consigliato loro che sono le fila destructor queste qua su cui io ero molto perplessa non sapevo se prenderle perché le vedevo troppo troppo grosse troppo massicce non so spiegarvi mi sembravano camarre ma poi mi sono detta ma se tutte le mie ragazze mi dicono di prenderle se mi dicono che le usano se mi dicono che sono versatili se mi dicono che posso metterle anche sotto le gonne se mi dicono che posso fare questo allora una volta per tutte mi sono decisa e le ho prese perché le ho trovate in sconto ragazze un'offertona ho trovato un'offertona su amazon e allora ho detto vabbè è la volta buona le ho trovate ragazze a 45 euro perché altrimenti non le avevo prese non so se c'è ancora comunque se non ci sono a 45 le ho viste a 50 adesso prima di fare questo video quindi eventualmente vi interessino eccole qua una cosa che vi dico è che mi avete sempre detto tutte anche in questo caso è che va preso un numero in più quindi vestono piccole quindi ho preso il 40 e io indosso il 39 quindi piccola indicazione e mi pare siano giuste siano perfette quindi ho preso il 40 le ho prese le ho misurate hanno il loro logo iconico fila speriamo di trovarmi bene ho voluto seguire il vostro consiglio speriamo di trovarmi bene scusate se mi tocca i capelli ragazzi mi fa veramente caldissimo e passiamo a acquistini di make up e skin care allora una cosa di cui io non posso fare certamente a meno è la crema solare e ho voluto prendere questa stavolta questa l'ho presa sempre su amazon e sempre perché ho trovato un'offerta come vi dico sempre su amazon io aspetto che ci siano le offerte lampo le offerte a tempo le promozioni e metto le cose nel carrello quando ci sono Alexa me lo comunica se ancora la cosa mi interessa io la acquisto ora per esempio ho preso il siero di Carnier perché anche in questo caso me lo avete detto tutti c'è stato proprio un'acclamazione generale Carmen quel siero che cerchi è su amazon a 9 euro però c'è stato un piccolo problema in questo caso perché per qualcuno era un'offerta a 9 euro per qualcuno altro a 10 boh per me io l'ho trovata a 10 però l'ho preso perché comunque era un'ottima offerta invece tornando a noi ho preso questo qui che è il la crema di La Roche-Posay che è un ottimo brand ragazze farmaceutico di Dermo Cosmesi questo qui molto molto valido allora UV UV e UVA fondamentale che ci siano anche gli UVA per avere una protezione ad ampio spettro e 50 più quindi questa presa su amazon se vi interessa poi sempre su amazon ho trovato anche in questo caso un'offerta e questa l'ho presa proprio al volo perché oltre all'offerta su amazon c'era un buono di 5 euro c'era uno sconto di 5 euro ulteriore quindi ho preso questo che è un fondotinta di Shiseido che costa molto che costa tanto però io l'ho trovato super scontato sono stata fortunatissima ed è Shiseido Sports BB Compact 50 più wet and dry questo allora questo l'ho già utilizzato un paio di volte l'ho preso per di più per quando vado al mare per quando andiamo in montagna per portarmelo appresso per fare ritocchi appunto quando sono in giro e magari mi sembra che il sole bruci troppo lo sapete che sono terrorizzata ragazzi sapete anche perché ecco qua questo è fatto in questo modo questo me lo avete consigliato anche in tante però io già lo volevo prendere perché avevo l'altra l'altra versione quella con il pecca arancione però ragazzi quello lo potevo acquistare quando mi abbronzavo perché comunque abbronzandomi un po' diventavo più scuretta color caffè e latte come vi dico sempre e quindi potevo farlo in questo caso che resto bianca cadaverica no e quindi ho preso questo perché questo in questa versione qui la tonalità light natural è buona per me è chiara anche se sembra scura ragazze perché vederla così sembra scura vedete però è chiara è più chiara di quello che ho addosso oggi perché adesso vi faccio vedere qual è quindi questo questo qui cercatelo su amazon se vi interessa perché lì trovate eventualmente qualche offertina o comunque sul notino qualcuno mi aveva detto sul notino però io sul notino l'ho trovato a prezzo pieno quindi no 32 euro anche no che altro ah ecco sempre in tema fondotinta nel frattempo prima di acquistare questa avevo acquistato su Kiko qualcosina perché su Kiko c'erano gli sconti quindi io ho preso queste cose a prezzi molto molto scontati questo mi pare di averlo pagato 6 euro mi pare se non di meno ed è questo qui della linea dolce vediva che vi consiglio tanto ragazze è molto molto valido questo fondo ed è un fondotinta compatto con SPF 50 anche in questo caso io l'ho preso nella tonalità 03 light beige che è la più chiara ed è quello che indosso oggi forse forse in videocamera sembra farmi il viso un pochino più scuro rispetto al collo ma non è così perché è la luce che comunque colpisce il viso più che nella parte del collo come sempre comunque questo io ve lo consiglio tanto io con i fondotinta compatti di Kiko mi sono trovata sempre bene e avendoli comprata in sconto mi sono trovata ancora meglio ho preso questo che ho indossato anche oggi ed è della linea Charming Escape il Cushion Concealer fatto così vedete fatto in questo modo così si gira e esce da qui il il concealer con la spugnetta il suo applicatore che mi piace molto devo dire questo questo sistema perché mi evito di andare a cercare pennelli pennellini sporcarmi le mani sporcarmi le dita e quindi mi piace molto è un po' scuretto ma l'ho voluto così l'ho voluto io così perché mi serviva scuretto come vi avevo detto ho preso la tonalità 02 e devo dire che va abbastanza bene anche se è un pochino tanto pastoso almeno secondo me però stendendolo bene e mettendo un buon idratante sotto il problema si risolve quindi sono contenta perché non l'ho pagato assolutamente l'ho pagato poco ecco e una cosa che invece ho preso a prezzo pieno perché non è nel sconto alcuni sono nel sconto e alcuni no ma questo no è quello che indosso oggi ed è il Long Lasting Eye Shadow Stick numero 59 che è questo bellissimo blu elettrico che cercavo da tempo io come sempre volevo prendere quello di Pixi non riesco ad acquistarlo più quello di Pixi non lo so perché per me è il più bello in assoluto ma non riuscendo ad acquistare raga mi serviva un blu elettrico perché io lo uso tanto ma soprattutto in estate e ho preso questo questo qui molto molto bello super approvato super provato negli anni ricomprato quindi questo andiamo tranquilli con il Long Lasting non si sbaglia mai ma acquisto ecco l'unico acquisto un po' compulsivo che ho fatto però non importa perché anche in questo riscontro questo l'ho preso su Zalando e ve lo faccio subito subito vedere è praticamente un portacarte fatto così di Michael Kors che mi è piaciuto tanto per questa cosa ragazza perché si può mettere così è il il fatto la cosa che mi ha convinto ad acquistarlo appunto è questo cordino questa catena con cui si può portare con sé e io di solito quando mi sposto sempre nei luoghi che nei luoghi che pratico o anche quando sono stata lì tipo per due settimane a volte mesi ho bisogno di qualcosa così da tenere in mano semplice piccolo maneggevole da portare a spazio ma anche per andare al mare pensando a cose belle quindi quando l'ho visto mi è piaciuto tanto avendolo trovato in sconto su Zalando l'ho voluto prendere tra l'altro ci sono tanti modellini ragazzi se vi interessa sia su Zalando che sulla Rinoscente li avevo viste quindi ci sono un po' di modellini carini l'unica cosa che magari mi sarebbe piaciuta è che avesse la cerniera qua ma non ce l'ha però non importa perché tanto io qua ci vado a mettere le carte i documenti più essenziali che sono quelli che mi interessano soprattutto e quindi me lo posso portare tranquillamente in giro anche per andare a fare la spesa senza portarmi tutta la borsa e l'ambaradan posso andare con questo solo soltanto è in pelle è fatto molto bene quindi lo comincerò a mettere in uso carino carino eh? voi che dite? ogni tanto un acquisto di questi ci sta e questo è quanto e questo è quanto ragazzi io chiuderei qua questo vlog perché penso che sia diventato anche abbastanza lungo quindi facciamo i saluti finali io spero che vi sia eh stato utile che vi abbia dato qualche spunto che vi abbia tenuto compagnia di avervi anche in questo caso intrattenuto e contemporaneamente fatto riflettere un po' eh ho lasciato un po' in sospeso il discorso lettera della mamma perché poi l'ho letta il giorno dopo non sono riuscita a leggerla lì per lì eh l'ho letta il giorno dopo con calma eh devo dire che è stata un colpo al cuore è stato un colpo al cuore perché ragazze io ho perso mia mamma da ormai 15 anni lei era molto giovane ed era veramente un tesoro prezioso avere una mamma come la mia è qualcosa che ti segna a vita e sto cercando di andare avanti e ho cercato di andare avanti nella vita nonostante io abbia avuto dei momenti di forte sbarellamento ho cercato di andare avanti nella vita eh eh utilizzando eh come patrimonio quello che lei mi ha dato quello che lei mi ha lasciato quello che lei mi ha insegnato eh prima tra tutte eh prima cosa tra tutte l'amore per la vita la capacità di rialzarsi la capacità di sorridere sempre 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 anche nei momenti più difficili e eh leggere quella lettera mia è stata una coccola che di cui avevo bisogno nel momento in quel momento proprio e quindi eh ho capito che lei trova eh comunque il modo di raggiungermi quindi mi ha fatto piacere da una parte da un'altra è stato difficile ecco non lo nego è stato difficile quindi ho avuto una giornatina un po' così però ripeto si va avanti si va avanti lei c'è in una maniera diversa rispetto a un modo convenzionale però c'è io la sento e eh questo è quanto ragazze lasciatemi un like se ancora non l'avete fatto eh lasciatemi un commentino partecipate interagite condividete i video sono sicura eh vedo che lo state facendo più di prima quindi io vi ringrazio tantissimo e volevo ringraziare tutte 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 voi che ogni giorno mi scrivate dei messaggi bellissimi che mi fate capire che comunque mi volete bene in particolare volevo ringraziare una ragazza che mi ha mandato una mail eh sul mio eh indirizzo eh di lavoro quindi mi ha mandato una mail in cui mi ha scritto delle parole bellissime veramente bellissime che sono state anch'esse una coccola speciale in quel momento ma la cosa che mi ha fatto più piacere ragazze veramente è che lei mi abbia scritto nei tuoi anni i video sono migliorati tantissimo ha una qualità veramente altissima il che dimostra non solo la passione con cui lo fai ma anche l'impegno e lo studio ed è vero perché io mi impegno sempre studio molto ho comprato il programma di editing ho comprato le musiche cerco di capire come fare per inserire nuovi elementi nei video insomma io veramente lo faccio sempre è una cosa che mi piace fare lo faccio col cuore come dice Barbara D'Urso la buon'anima però lo faccio veramente anche perché mi piace perché mi piace mi piace tanto produrre portarvi dei video migliorare la qualità ora sto in fissa con una nuova cosa che voglio prendere se riesco la prenderò insomma quindi sono contenta se voi ve ne accorgete vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo vi voglio tanto bene ciao